Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air oggi anziché volare in alto voleremo in basso anzi molto in basso perché voleremo all'interno del bosco perché questo bosco nel parco del curone è veramente una figata d'ambiente e sono curioso di vedere come il Mavic si comporta in mezzo alle piante ai torrenti e ai rami quindi ragazzi adesso prepariamo tutto ed ecco diamo con il Mavic I've been watching you Just come to me I've been watching you 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 It will be there Taking your hand You're meeting alone You can't walk away For some reason It wants to take you Having no clue You don't want to stay This will be there Taking your hand You're meeting alone You can't walk away For some reason It wants to take you Having no clue You don't want to stay 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ok ragazzi Il volo con il Mavic all'interno del bosco è finito È stata una figata allucinante Non pensavo Ma veramente, veramente figo Volare con il Mavic all'interno di un bosco Lui è piccolo E si comporta benissimo Attraverso le piante e i rami È stato fighissimo volare sopra il torrente Che è veramente, veramente affascinante Sembra quasi il torrente di una giungla Quindi ragazzi Come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su Iscriviti al canale se non l'avete ancora fatto E ci vediamo nei prossimi video Ciao 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 Ciao